Buongiorno, sono Elisabetta Giannini, i miei negozi sono a Cremona, si chiamano Cose, sono negozi che abbiamo creato nel 1987 e che si dedicano ai giovani talenti come oggi qui a Mipel. La nostra heat bag della stagione per vendita e apprezzamento del cliente è la panier bag di Marni e stiamo avendo grande soddisfazione con la nuova star bag di Stella McCartney. A Mipel per la nuova stagione stiamo cercando una borsa di un concetto dedicato a una donna che lavora, una borsa sofisticata, capiente e possibilmente anche leggera, quindi una bella sfida direi. Prediligo sia un nuovo colore sviluppato con dei materiali decisamente più soft rispetto alle borse piccole e rigide che stiamo vedendo fin troppo sviluppate in questo periodo, con delle colorazioni calde, quindi dei toffi, gli ultraviolet, i cuoi, i cardinali, queste sono le colorazioni che mi piacerebbero per la prossima stagione. Grazie, grazie a voi.